Ciao Fragoline! Nuovo video! Allora, questo è il primo video che sto registrando anche se devo ancora diciamo guarire e un po' di dolore c'è, però dato che non voglio stare senza video sul canale, almeno un video a settimana voglio metterlo. Per cui spero che questo video vi piace e è un video un po' diverso, un po' particolare perché, come leggete dal titolo, e vi spiego che ho trovato questo sondaggio, in poche parole, su questa agenda che ho, che ho visto che è molto carino, no? Allora ho detto, perché non farlo insieme a voi, così almeno secondo me è più bello, dato che su YouTube non c'è questo sondaggio, queste domande particolari, allora voglio farlo insieme a voi. Per cui, allora, sono domande, sono undici domande, non c'è il tag, però dato che voglio inventare io questo sondaggio, questo tag, per cui facciamo inventato da me questo tag col titolo Cosa sceglieresti tra. Per cui, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video e se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram, lì c'è sempre aggiornamenti su tutto, sulla mia salute, su praticamente tutto. Allora, voi dite, ma se sei male, perché sei in canottiera? Perché ho caldo e preferisco, cioè, non avere il maglione, perché sto morendo di caldo. Anzi, comunque, non si sa mai perché certi scrivono commenti un po' così così, allora già avviso perché. Allora, iniziamo. Cosa sceglieresti tra. A parte la luce naturale che il sole va e viene, per cui scusate, ma tanto alla fine parlo, non vi faccio vedere niente. E scusate il mio cane che è russa. Voglio anche precisare sta cosa. Iniziamo con la prima domanda. Amore senza fine o soldi senza limite? Allora, io ho scelto amore, perché ho già fatto le list. Dato che è carino questo sondaggio, questo tag, fatelo anche voi. Rispondete qua sotto le domande, sotto i commenti, così almeno sono curiosa di sapere anche voi cosa avete scelto di queste due opzioni. E poi, mi raccomando, voglio che lo fanno anche le youtuber e quelle che mi seguono sul mio canale. Voglio vederlo anche sul vostro canale, perché secondo me è molto bello. Allora, io ho scelto amore, perché i soldi non fanno la felicità. Io credo nell'amore, diciamo che da quando sono insieme al mio ragazzo, che sono tanti anni insieme, preferisco l'amore, perché i soldi per me fanno così. Adesso ce li hai, il giorno dopo non ce li hai più, per cui secondo me non fanno la felicità. Voglio spiegarvi anche il perché ho messo queste risposte. Seconda, condividere la biancheria intima o lo spazzolino? Allora, ci ho pensato un po', perché la biancheria intima, secondo me, fa schifo a me. Preferirei condividere lo spazzolino, per cui la mia risposta è condividere lo spazzolino. Per il semplice fatto, uno, lo spazzolino lo puoi lavare sotto l'acqua, in più ci metti il dentifricio, per cui anche se lo lavi sotto l'acqua e ci metti il dentifricio, cioè, diciamo che va bene, non fa schifo. Invece, se devi condividere un intimo, una mutanda che hai già usato, cioè, secondo me, no. Per cui la mia risposta è lo spazzolino. Terza domanda. Avere uno chef privato o un autista personale? Allora, io ho scelto autista personale, perché un chef privato, sinceramente, io sono brava a cucinare, sono brava a fare i dolci e preferisco cucinare io, non che cucinano gli altri. Per cui la mia risposta è stata questa, autista personale, perché così almeno se devo andare da qualche parte, almeno c'è l'autista che mi accompagna e la mia scelta è stata questa. Poi, quarta domanda, poter parlare con il tuo animale domestico o parlare con tutte le lingue del mondo? Ovviamente, come sono fatta io, ho scelto poter parlare con il mio animale domestico, perché voglio sapere cosa pensano, voglio sapere praticamente tutto, e allora preferirei sapere quello che pensano i miei animali, in poche parole. Cioè, parlare tutte le lingue del mondo non mi servirebbe niente, anche perché non ha senso, per cui preferirei... cioè, la mia risposta è questa, in poche parole. Andiamo avanti, se no mi dilungo troppo. Quarta, scusate, quinta, leggere la mente altrui o essere invisibile? Allora, io ho scelto leggere la mente altrui, perché così almeno tu sai tutto quello che dicono, tutto quello che pensano gli altri. Essere invisibile, secondo me, è diverso, perché sì, puoi vedere quello che fanno, ma non sai quello che dicono, per cui la mia risposta è questa. Poi, sei. Visitare Oguartis o Narnia? Allora, io non so che cos'è Oguartis. Allora, vi scrivo qua il pezzettino, ma tanto poi le domande ve le lascio giù nell'infobots, così almeno fate questo quiz. Per cui, dato che non so che cos'è, allora io ho votato Narnia. Narnia, io ho visto quel film di Narnia, allora mi è venuta in mente questa cosa qua, per cui diciamo che ho votato Narnia, ma così non... Questa domanda, questa è un po' strano, per cui, boh, io ho votato questo. Poi, sette. Un anno senza internet o un anno senza denti? Ma, cioè, ma secondo voi, chi vive senza internet? Specialmente se uno lavora con internet. Per cui la mia risposta è... È un anno senza denti. Cioè, non c'è niente da dire, per cui... Sì, ok, che quando sono nata io non c'era internet, non c'era niente, non c'era tutto questo che adesso c'è, per cui ci può stare che potrei dare anche l'altra risposta. Però, dato che adesso ci lavoro, cioè, mi diverte stare su internet, conoscere persone, eccetera, per cui alla fine preferisco stare senza denti. Comunque, detto questo, otto, poter bere soltanto acqua o solo bibite? Allora, io preferirei bibite, perché a me piace il tè, il tè freddo, la Coca-Cola, cioè, a me il succo di frutta, a me piace queste cose qua. Per cui, diciamo che preferisco le bibite che l'acqua. L'acqua, sì, la bevo tutti i giorni, come sto bevendo adesso, che devo per forza berla tutti i giorni. Cioè, per forza, perché giustamente, non so perché, ma quando arrivo all'inverno non bevo mai, ma mai in senso l'acqua, non ho proprio la sensazione di bere. E allora, giustamente, bevo poco. Comunque, detto questo, andiamo avanti. Niente serie del... Scusate, mi sto impappilando. Allora, niente serie, né film, o zero musica. Allora, io ho votato niente serie, né film. Non so perché l'ho fatto, però forse perché preferisco non ascoltare musica, ma vedere i film, sinceramente. Per cui forse ho votato questo, vedere film e serie, perché sono forse più belli che ascoltare musica. Infatti, prima ascoltavo solo musica, invece adesso faccio l'incontrario, ascolto i film, cioè, ascolto i film, guardo i film e le serie. Poi, andiamo avanti. Non smettere mai di sorridere, non smettere... o non sorridere mai più. Allora, io ho messo non smettere mai di sorridere, perché come vedete nei miei video, io sorrido sempre. Sono una ragazza che ride sempre, non la smette mai di ridere, ho sempre il sorriso e non l'ho mai smesso. per cui preferirei ridere che smettere di ridere, sinceramente, perché sei felice se ridi, se invece non ridi, c'è... c'è capito cosa voglio dire. Comunque, questo io ho messo. Poi, poter usare soltanto Whatsapp o solo Instagram. Allora, io uso di più Instagram, Whatsapp lo uso solo per cose che mi servono. Cioè, messaggi davvero che devo scrivere, ma diciamo che la maggior parte uso solo Instagram. Se c'era scritto preferisci YouTube o Instagram tutta la vita YouTube, perché Instagram secondo me dovrebbero cancellarlo, perché su tutte le cose che vedo tra persone fake, tra persone che persone che ti prendono per il... diciamo che preferirei YouTube al 100%. Questa è la mia decisione. Però, dato che c'è scritto Whatsapp e Instagram, io dico Instagram perché lo uso sempre e poi perché sono sempre su Instagram su fare le storie e tutto, eccetera. L'ultima, non mangiare mai più gelato o pizza? Allora, io preferisco mangiare il gelato che la pizza perché il gelato secondo me è più buono ha tanti gusti invece la pizza ha sempre gli stessi gusti ha sempre quelli specialmente qua dove abito io per cui preferisco mangiare il gelato che che la pizza perché non resisterei mai senza gelato. per cui la mia risposta è il gelato in poche parole. Allora, sono finite ovviamente vi lascerò giù le domande così almeno allora qua non c'è scritto chi ovviamente taggo. allora vorrei tagare praticamente tutti in particolare vorrei tagare Sara Magic Magic 15 ricette risate in pochi minuti Betty 82 e le altre persone che non mi ricordo i nomi praticamente taggo tutti per cui se volete fare questo tag a me mi fa piacere e in più sinceramente è bello così almeno andiamo avanti con i tag nuovi con i tag speciali ovviamente questo l'ho preso da un'agenda però dato che è bello sono curiosa di sapere anche le vostre risposte e mi raccomando scrivetemi qui le vostre risposte su queste domande che io vi ho appena letto sono curiosa di sapere cosa preferite voi per cui sarei curiosa perché mi raccomando fate questo tag sia le persone che hanno un canale sia quelle che mi seguono mi raccomando scrivetemelo qua sotto ok il quiz è finito il sondaggio è finito non so come chiamarlo chiamiamolo tag dato che ho avuto questa idea un po' diversa un po' particolare spero che questo tag vi sia piaciuto e ovviamente se ne volete altri nuovi o altri tag che potrei inventare dato che è da tanto che non vedo tag e le persone non fanno più tag su youtube allora dato che è più bello vorrei diciamo continuare fare anche questi video fatemelo sapere anche qui sotto detto questo noi ci vediamo al prossimo video e niente ciao ciao